Dicembre è il mese all'insegna dei vini di qualità con idee regalo in prossimità delle imminenti festività natalizie. Questo è Cantini Aperte a Natale, l'evento organizzato in tutta Italia dal Movimento Turismo del Vino e che conclude il ricco calendario di manifestazioni annuali dedicate alla promozione della cultura del vino. Sentiamo. Seconda iniziativa da parte di questo gruppo di imprenditori molto capaci che questa volta investono integralmente in questa iniziativa. Il Comune sostiene con il suo sostegno, diciamo, col piacere di stare insieme. Si è scelto questo format perché ancora una volta riusciamo a mettere insieme gli imprenditori, il food. C'è una questa partecipazione anche da parte dei panettieri di Molfetta che sono impegnati nel lancio del prodotto calzone alla Molfettese che è fatto col pesce fresco, quindi è ottimo, vi invito tutti quanti ad assaggiarlo e che presto avrà il riconoscimento di Presidio Slow Food e proveremo a creare un paniere, una comunità del cibo, come si dice. Già da tempo alcuni panificatori locali avevano manifestato l'esigenza di costituire un gruppo per valorizzare un prodotto tipicamente molfettese denominato il calzone. Dobbiamo ringraziare la manifestazione in cantine di Natale. È un prodotto che nasce per il periodo quaresimale perché ha un ripieno a base di pesce, il merluzzo melù, ma è un prodotto che viene consumato durante tutto l'anno. I panificatori, l'associazione, ha voglia di promuovere a livello locale e non solo questa specialità gastronomica molfettese. L'impasto è acqua, farina, lievito, olio e sale, mentre il ripieno è merluzzo melù, in molfettese nuzzo stubb. Lo sponsale, le cimette del cavolfiore e l'oliva nostrana, la pasole.